Per l'ottantesimo anniversario della rivolta dei martiri lancianese abbiamo voluto creare un evento molto particolare. Ci sarà la presenza della banda dei carabinieri, il 5 pomeriggio dopo la messa fatta al cimitero nel ricordo dei martiri ottobrini. Ci sarà questo bellissimo concerto della banda dei carabinieri che poi ci accompagneranno il 6 mattina per la sfilata lungo il corso per rendere omaggio ai martiri ottobrini. Ottant'anni sono tanti, la memoria spesso può anche sciogliersi nel tempo, allora abbiamo il dovere di ricordare questa bellissima pagina di gloria della nostra città. Una rivolta che è di tutti, è di tutti i lancianesi e io mi auguro che questa memoria rimanga nel tempo perché quel sacrificio dei ragazzi ha consentito oggi di vivere in libertà.